Ciao ragazzi e ragazzi eccoci finalmente arrivati con nuovissima puntata di giudichiamo male, anzi malissimo, gli outfit delle celebrities Allora prima di iniziare mi raccomando di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina Cosicché non vi potete perdere nemmeno un video futuro dato che torneranno gli story time Torneranno appunto gli giudichiamo male, anzi malissimo, torneranno i gossip Ma soprattutto torneranno i video commenti su temptation island vip a settembre Poi vi voglio fare un ultimo ps, scusate per questa fascetta gialla, ma oggi ho dei capelli improponibili Oltre che al viso dato che ieri notte ho fatto le 5 di mattina a guardarmi via e maize solo per questo video Ma bando alle sciacce, sciaccio alle bande, andatemi a seguire anche su instagram Mettete mi piace a questo video se ne volete poi anche altri per altre cerimonie dei vip Iniziamo subito a giudicare malissimo gli outfit che con il mio outfit di oggi voi direte Ma da che pulpito cristiano? Però ragazzi io sono un casa, insomma mi ha sotto riflettori di milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo Ma come ben sapete ieri sera sono andati in onda su MTV Gli MTV Video Music Awards 2019 Che è stata una parade di tantissime celebrities Anche se mancano le celebrities proprio di punta Tipo Lady Gaga, Rihanna, Beyonce, Katy Perry Che figlio hanno fatto tutte queste cantate? Boh, vabbè Ma iniziamo dalla primissima La regina incontrastata della serata Aveva tipo 10 nomination, non so quante ne aveva, ma insomma tantissime Ha vinto il Video of the Years Taylor Swift Che nel red carpet, come potete ben vedere, come posso leggere È vestita in Versace Con stivali di Louboutin Allora A me piace ovviamente Molto bella Taylor Swift è secondo me una delle donne più belle del mondo La troverei, insomma Anche se però Io questo outfit su di lei L'ho già visto da qualche parte Può darsi Insomma, non è niente di Speciale Niente di OMG Che bella Insomma, bella tutto quanto Sexy Però Ma Poteva fare di meglio, insomma Nonostante questo Molto colorata Ovviamente Versace Adoro Versace Passata Ti passo Perché come fai a non passare Taylor Swift Soprattutto il nuovo album Lover è bellissimo Andatelo a Ascoltare su Spotify Ma Passiamo ad altre due bonazze Gigi e bella Hadid Che In questa foto sono insieme Una delle due Non è molto felice Di fare una foto insieme alla sorella E Proprio Gigi È vestita in Tom Ford Allora Insomma Insomma Loro Bellissime Ovviamente Super top model Super modelle Super skinny Super alte Super Bo Angeli di qualsiasi cosa Però Bo Avrei usato un po' di più Cosa sono questi pantaloni Non mi piacciono per niente Ma Bo Che si dice Le passiamo Le bocciamo Facciamo che tocca a voi Qua sotto tramite commento Ditemi se Passate Promuovete Oppure bocciate Al prossimo anno Gigi And bella Hadid Ma Un'altra delle protagoniste Della serata È ovviamente Lidou Che Si è presentata Sul red carpet Vestita in moschino Con questo abito Che sembra Boh Un coso della spazzatura Con scritto Siren 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 Come si dice Vabbè Insomma c'è scritto Siren Oh Allora Faccio un piccolo PS Con i nomi in inglese Per esempio Ora fra un po' Ci sarà anche Alzi Che io non so pronunciare Voi Mi fate sempre Un buscio di culo Così Non si dice così Oh mio dio Ma non si dice così Però Gli americani Storpiano sempre I nomi italiani Per esempio Versace Che lo chiamano Versaci Dolce e Gabbana Che lo chiamano Dolci e Gabbana Allora Perché io non posso E loro si Oh Oh via Tanto sta Torniamo a noi Lizzo Ovviamente promossa Anche perché questo Boh Adoro 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 E la sua performance È stata una delle più belle Allora vi faccio La top 3 subito Delle performance Che mi sono piaciute di più Numero 1 Normani Ovviamente Madonna Una cosa È stata Boh Una bomba Poi Lizzo C'è stata E poi ovviamente Taylor Swift A seguire tutti gli altri Ma mi sono piaciute anche Camilla Cabello Con Shawn Mendes Miley Cyrus Con la sua performance In bianco e nero Oh mamma Com'è bella Vabbè Ma questo È un altro discorso Insomma Lizzo Con questo outfit Anche se mi fa ride Promossa Un'altra Super promossa Ma come non poteva Non essere Camilla Cabello In Balmain Questo vestito Da super dea Greca Io lo adoro Io adoro I vestiti svolazzanti Ragazzi Con gli strascici Gli strascici Gli strascichi Quindi Super promossa Lei bellissima A parte l'espressione In questa foto Molto nervosa Per la prima volta Ha cantato insieme Al fidanzato Show band Señorita C'è stato anche quasi un bacio Ma mi sa che si sono vergognati Quindi si sono dati Solo nassino nassino Adoro 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 Señorita Tra le altre cose Numero uno in America Finalmente Seconda numero uno Di Camilla E lei super promossa Adesso Dei maschietti Dopo 11 anni Sono tornati insieme Sul red carpet Dei VMAs I Jonas Brothers Che Qui sono vestiti Tutti in Fendi Ma Allora Io adesso I nomi Dei singoli Un li so Cioè Non so Chi è chi Insomma Però Quello nel mezzo Vi sembra Un po' Vestito Da Italiano Poraccio Degli anni 30 Impiantato A New York E Malavitoso Sì ragazzi Sì Quindi non lo so L'altro Con il lupetto A collo alto Mi sa che sia Joe Jonas Super bonazzo Però Amo Siamo agosto Vabbè Boh E il terzo È quello inutile Finalmente È arrivata L'altra bonazza Ragazzi Oh sì O come si dice Insomma Vestita in Dandas Allora Lei è bellissima Ok Non me ne vogliate Ma Cos'è sto vestito L'odio L'odio con tutto me stesso Cioè No No E poi Apprezzo La ricrescita qui Dei capelli Rainbow Versione pride Però Non sei a un carnevale Ragazza Quindi Gna Bocciata Nonostante tu sia una bonazza Ovviamente Ma ragazzi 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 La vera bocciata Della serata È una sconosciuta Perché io non sapevo Nemmeno chi fosse Tana Mongeau 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 Insomma Questa qui Che si è presentata Sul red carpet Con un boa Vero In quanto Voleva Un po' Rifarsi Alla performance Epica Dei VMAs Di Britney Spears Del 2002 2001 Con I'm a slay for you Ora È un pitone albino Questo Serpente Io dico Siamo nel 2019 Ci sono tutti i problemi Del mondo Con gli animali Il clima E tutto quanto Ma Lasciamoli Nel loro habitat Perché Devi prendere Un pitone E usarlo Come borsetta E Come accessorio E rompergli il cazzo Con tutti i rumori Che ci sono Nella cerimonia Tutti gli urli Tutti gli schiamazzi Cioè Lascialo nel suo Habitat naturale Quindi Io ti boccio Ma non a settembre Ti boccio Al non rivedersi Mai più Amore Allora Io adoro Jonathan Van Ness Che si è presentato Ai VMA Come una consita Qualunque Praticamente Capello lungo Barba Come ci ha abituato lui Però Mini dress È un dress Sì Un dress cannottiera Nero Mantello nero Clutch di Chanel Nera E De coltè Nere Adoro Adoro Prostima volta Devo fare un video Così anche io Lui ci ha Sfracassato I maroni Per Settimane Settimane Con la sua Canzone Però Però Sparirà Al prossimano Quasi sicuramente Come tutti I mega tormentoni Ma Lil Nas X In questo red carpet Io devo dire Che ha Spaccato di brutto Perché io Questo vestito Lo amo Super Pagliettoso Super Pagliettato Super brillantinoso Bravissimo Lil Nas Adoro 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 Quindi io ti promuovo Ma Direttamente All'università Bellissimo Adoro Poi Ma questa chi è Madonna e buonazza Oh Normani Eccoci Normani La mia beniamina Di quest'anno Allora In questo vestito Che sembra un po' Ascianti nel 2002 Un po' Beyoncé 2003 Insomma E mi sa che è una specie Tributo Di tributo Anche per loro Allora Io la amo Cioè Ditemi se non è una madre natura Lei Madonna Com'è bella Anche se I sandali Non mi piacciono Per niente Ma zero proprio Cosa sono quei tre fili Quattro fili rossi No No Odio 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 Quei sandali E Il vestito Sembra più Un Un coso Per andare in spiaggia Insomma Per fare una festa in spiaggia Stile Jova Beats 2019 Però io la amo Madonna Quanto è bella Mamma mia Ho voluto mettere Keke Palmer Qua Solo perché È vestita di giallo E solo perché Vi faccio Notare Quanto io Adoro Il giallo E come è bello Questo vestito In swarovski È pieno di swarovski Chissà quanto costa OMG Muoio Lei bellissima A parte le scarpe Ma perché gli americani C'hanno queste scarpe Da puttanoni Da combattimento Adoro Adoro A me il giallo Nei vestiti Mi piace tantissimo Ti promuovo Guarda Ti promuovo Nonostante le scarpe Tra i vari cantanti C'è stato anche Lo youtuber James Charles Che molti di voi Lo conosceranno Perché ne ho parlato Tantissimo Nel tubissimo Dato che ha fatto Mega scandalo E Ma come ti sei vestito Cioè Una camicia De forza Amore Ma ti dovevano Fermare Cioè Dovevi stare tipo così Perché se no Andavi ad assaltare Degli uomini etero No No Bocciato Non ti boccio Mamma mia Stava parla Ora Io non conosco Nemmeno questa Nikita Dragoon Ma L'ho voluta mettere Perché Non vi sembra Un po' Michonne In The Walking Dead Quando Le prime volte Lei è apparsa Negli episodi Contornata da zombie Schiavi Cioè Uguale Uguale Non tanto lei Ma In quanto per il siparietto Che c'è stato Dato che aveva Mille milioni di schiavi Al guinsaglio Adoro 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 Per il vestito Non ho niente da dire Se non Mando vai A volgarotta Ma Ragazzi Ragazzi Finalmente Lo so che stavate aspettando Lui Il bonazzo Showman Che In ogni red carpet In ogni giudichiamo male Anzi malissimo Che vi ho fatto Io l'ho sempre Stra adorato Sempre Stra promosso E lo ristra promuovo Anche questa volta Perché Oh Un se può di nulla Lui se sa vestire Anche perché Con questo color Smeraldo Io lo amo Mamma mia Ma perché Fai finta di stare con Camilla Cabello Non stai con me Amore Ragazzi È arrivato il momento Purtroppo Amori Devo bocciare Una persona Haven Max Ma che cos'è il tatuaggio Di Elettra Lamborghini Che ha nel culo Muoio Mentre promuovo Ovviamente La Rosalia Rosalia La amo Grandissimo successo Per lei Anche ieri sera Ha vinto Ha vinto Ha vinto tipo Il best Latin artist Qualcosa del genere E E' bellissima E' bellissima E' bellissima lei Anche se Con questo vestito Foto al black Che gli copre Anche le mani Sembra Tu vai a un funerale Amore Quindi Anche meno Ragazzi e ragazzi E' finito qui il video Ma vi do Vi metto Dei bonus Delle bonus foto Delle foto bonus Non so neanche l'italiano Ma dove voglio andare Io A giudicar male la gente Perché ci sono stati Anche degli italiani E forse voi non lo sapete Ma c'è stata Anche Elettra Lamborghini In versione Cleopatra Insieme al suo fidanzato Afrojack Che Amore Ok L'arancione Sarà il nuovo colore Dell'estate Ok Tutti i filtri arancioni Di Instagram Che io sto cercando Di copiare Ma In malo modo Va bene La capigliatura Alla Cleopatra Perché io Cleopatra La amo E' la mia preferita Ma Gne Gne Ma insomma Un lo so Un lo so Ma poi ma quanto è alto Lui Due metri e venti Cioè boh Artissimo Adoro Fatto sta che non è stata L'unica italiana A rendere omaggio All'Italia Ai via Maze Ma c'è stato anche lui Andrea Damante Come mai c'era Andrea Damante Sul red carpet Nei via Maze E soprattutto Sì ragazzi Era vestito proprio così Una maglietta E un giacchetto Di pelle Nero Detto questo Ragazzi Ragazzi Ora tocca a voi Scrivete Chi sono stati I vostri preferiti Qua sotto Se la mette Commento E ovviamente Anche chi sono stati I vostri Non preferiti Insomma E soprattutto Ditemi Quale performance Se avete visto Su youtube Su mtv In diretta Oppure in differita In streaming Ovunque Se avete visto Questa cerimonia Quale performance Vi è piaciuta di più Io la mia top 3 Ve l'ho data La mia preferita Ve l'ho detta Quindi Tocca a voi E non vedo l'ora Di leggere Tutti i vostri messaggi Qua sotto Mi raccomando Vi continuo a ripetere Mamma mia Che voce che avevo Di iscrivervi Al mio canale Per non perdervi Nemmeno un video Di andarmi a seguire Anche su instagram Per tutte le storie In anteprima Perché su youtube Non vedete tutto Molte cose Succedono prima Su instagram Quindi Andate a darci Un'occhiata E niente Per oggi è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao